Dalla home page del sito di B&P Paribas andiamo nella sezione certificati a leva, scendendo giù con il mouse dove ci sono tutti i prodotti a leva arriviamo fino a mini future e in corrispondenza del mini future sulla destra si apre e calcola la copertura. Quindi c'è questa nuova sezione che ci permette di entrare all'interno di questo tool molto molto ben fatto. A che cosa serve? In realtà serve per andare a farsi aiutare proprio dallo strumento nel calcolo del numero di certificati e della scelta del certificato da fare per coprire posizioni lunghe che noi abbiamo sul mercato. Allora tipicamente sai che anche nelle ultime settimane anche prima della pausa estiva abbiamo spesso parlato di coperture di portafoglio in particolare ad esempio come proteggere da eventuali ribassi che poi si sono verificati portafogli in fondi azionari piuttosto che in ETF o anche in certificati stessi. E quindi dove c'è la tendina classe del sottostante è possibile selezionare il tipo di asset che vogliamo andare a coprire. E quindi nello specifico se ad esempio volessimo coprire un portafoglio di fondi azionari potremmo andare direttamente sul indici e qui a quel punto avremmo una serie di indici tra cui scegliere. E quindi ad esempio il Fuzzi Mib piuttosto che l'S&P 500 per il mercato americano o ancora il Nasdaq. Più raro è la presenza del Nikkei 225 quindi l'indice giapponese come fondo azionario per quanto una componente geografica orientale ci possa essere però questo è molto concentrato prevalentemente proprio sul Giappone. Molto utile è ad esempio l'Eurostox 50 perché molti fondi nei portafogli dei consulenti che incontriamo quasi quotidianamente hanno come benchmark più un azionario europeo. L'ideale come più volte sottolineato sarebbe proprio un MCI World quindi un globale che permetterebbe di coprire più facilmente un portafoglio maggiormente diversificato in termini geografici. Insomma una volta scelto il sottostante è sufficiente indicare il valore del portafoglio quindi ad esempio i 10.000, 15.000, 50.000 euro ciò che si vuole difendere dai ripassi di mercato e a questo punto una volta inserita la cifra il sistema ci restituisce gli strumenti.